Consigliere Di Maio, tra tante brutte notizie una bella notizia, il Forio sta facendo una buona squadra, adesso anche la conferma di Saurini. Sì, per quelle che sono le mie notizie sicuramente vedo che questa compagine si sta dando da fare per fare, diciamo, porre in essere un campionato di eccellenza ancora con risultati migliori anche rispetto a quelli dell'anno scorso e comunque erano dei risultati dignitosi, insomma, perché ormai erano anni che non si vedeva una squadra che riusciva a mantenere comunque bene il campo, bene la categoria, una categoria come questa che almeno da appassionato di calcio sto vedendo che sta diventando sempre più importante. Piera sintonia con misteri in pagliazzo per quanto riguarda il mercato. Sì, penso che sia un fatto prestigioso avere un allenatore che ha una storia calcistica così importante sul nostro territorio e che sempre quelle che sono le mie informazioni vedo che sia stato accontentato. Nell'ultimo ho sentito che è stato anche tesserato il forte attaccante Gianluca Saurino, sono stati già tesserati, riconfermati, insomma il gruppo importante tra i quali c'era dell'anno scorso c'era chiaramente Nicola Mora, giocatore di Spicco, Chiaiese, di Spigna, Ciro Saurino, quindi un bel gruppo stanzialmente. L'Ischia aggiungono cattive notizie, probabilmente l'Ischia potrebbe scomparire, c'è qualcuno che potrebbe subito cercare di fare una corsa verso l'alto, è proprio il fuorio tra queste? Ma questo non lo so, sicuramente io credo che il dispendio economico che occorre per raggiungere dei risultati prestigiosi o puntare al salto di categoria necessita di un coinvolgimento più importante dell'imprenditoria, cioè ci vuole una passione vera in quello che è il tessuto economico vero del territorio che deve tramutarsi in aiuto concreto, altrimenti è chiaro che anche in maniera dignitosa però si va avanti con una passione che viene da quelle a volte che sono le fasce intermedie o addirittura il popolo che riesce a dare un piccolo contributo, quindi con grandi sforzi si può mantenere bene un'eccellenza, credo che abbiamo un'eccellenza fuori, ci vogliono degli sforzi molto più grandi per ambire a categorie superiori.